Continua il processo per la morte di Anastasia, la donna 23enne, residente nel Fanese, che è stata uccisa dal marito il 13 novembre 2022 con 29 coltellate. Oggi, presso il Tribunale di Pesaro, sono stati ascoltati i primi testimoni, tra cui il compagno che la donna aveva iniziato a frequentare in seguito alla separazione dal marito. Proprio sulle dichiarazioni di quest'ultimo verte grande attenzione da parte dell'accusa e della difesa, poiché è l'ultima persona ad essere stata in contatto con lei prima dell'incontro tra Anastasia e suo marito Lasceri in quella tragica sera di novembre. Gli ultimi messaggi, gli ultimi vocali intorno alle 20 di sera, poi un altro ancora alle 20 e 45, che non ha mai ricevuto risposta. Stavano le battute iniziali, abbiamo sentito, diciamo, quelli che sono i protagonisti della vicenda pregressa all'evento omicidio, quindi dei maltrattamenti che, diciamo, coloro che poi si sono interessati del fatto omicidiario. È emersa la situazione che poi è quella che è la linea difensiva, per cui c'era una conflittualità interna tra i coniugi, ma non c'era una sopraffazione vera e propria da parte del diputato nei confronti della moglie. Dello genere parlo della condotta matrimoniale, quindi del rapporto matrimoniale e sentimentale tra le parti. È emerso che effettivamente non andavano d'accordo, quindi non c'era un clima sereno, tant'è che poi la signora ha deciso di interrompere la relazione con l'imputato e iniziare una loro relazione con un'altra persona, ma da qui poi a parlare di maltrattamenti è qualcosa di diverso, è una semplice diatriba familiare che avviene in tutte le famiglie. Ripeto, questo è l'elemento maltrattamenti, poi logicamente il fatto omicidiario è qualcosa di diverso, seppur secondo l'ipotesi della procura strettamente connesso agli stessi maltrattamenti, ma sta in una fase di sale, quindi è per questo. Le testimonianze rese stanno confermando il quadro accusatorio. Chiaramente ci sono delle circostanze da definire, però tutto sommato il quadro è abbastanza chiaro, come ho detto fin dall'inizio. Il pastore magari non era conoscenza di tutto, però ha rilasciato sicuramente dichiarazioni che fanno comprendere che ci fossero delle criticità nel rapporto, questo è evidente. È chiaro che la situazione va capita bene per quanto concerne proprio le modalità con le quali è avvenuto l'omicidio, però sicuramente verranno chiarite nel prosieguo. Per quanto riguarda invece le immagini dei coltelli che sono state mostrate, qual era secondo lei un po' il senso di quelle foto? Il senso? Allora, l'impostazione della difesa dell'imputato mi sembra abbastanza chiara, però ci sono delle tracce matiche, ci sono delle tracce del DNA, perciò è abbastanza evidente che al di là di quello che dice la difesa la circostanza è ineludibile. La questione dei coltelli sarà poi di levante, io ritengo con i prossimi testimoni che hanno fatto gli accertamenti tecnici, lo vedremo successivamente.